Affidare la custodia della Villa Monica in assenza di personale comunale alle associazioni di volontariato presenti in città. Questa la proposta della terza commissione consigliare permanente all'ambiente presieduta da Salvatore Mazza. Alcuni componenti della commissione, composta anche da Walter Dorato, Calogiora Dornetto, Manuela Margherita, Maria Grazia Riggi, Angelo Scali e Giuseppe Tuminelli, assieme a Marco Petrotto, funzionario dell'ufficio tecnico del comune, infatti hanno effettuato un sopralluogo nella Villa, uno dei polmoni verdi della città non fruibile dalla cittadinanza, in particolar modo dai residenti del quartiere Balate Pinzelli, uno dei più popolosi del centro abitato. I cancelli di Villa Monica sono chiusi da quando l'Assogen, l'associazione dei genitori che l'aveva in gestione, ha deciso di non rinnovare la convenzione a causa dell'assenza di sinergia con l'amministrazione passata. Struttura ad oggi chiusa, quanto sempre per mancanza di personale addetto alla custodia, anche se l'amministrazione sta pensando di affidarla ai comitati di quartiere. Una villa in buone condizioni, le bacce infatti sono state tolte di recente, anche se occorrerebbero dei piccoli accorgimenti, quali la sostituzione degli arredi ormai deteriorati nel tempo, la realizzazione di un bagno nel casotto che custodisce i recipienti dell'acqua e il gruppo di pompe o l'installazione di bagni chimici, il rifacimento dei cordoli nelle aiole, la potatura degli alberi, il posizionamento di ringhiere per rendere più sicura l'area. Questa commissione ha, tra le altre cose, ha voluto attenzionare, privilegiare questa parte della città e soprattutto per verificare quali sono i motivi che portano a questo piccolo polmone a rimanere chiuso e non consentire la fruizione per i cittadini di Caltanissetta. Faremo tutto il possibile, non è solo, non abbiamo attenzionato soltanto Villa Monica, però specificatamente per Villa Monica i prossimi giorni ci adopereremo per sollecitare appunto e con l'assessore al ramo e che al sindaco l'apertura della villa e soprattutto l'installazione di questo modulo dove verrà alloggiato il servizio igienico.